SIGLA Hai il coraggione. È con esso il modo di contenere il potere del pozzo. Abbiamo un piano per mandarti lì. Mega ti spiegherà il processo. Mega ti spiegherà il processo. Mega ti spiegherà il processo. Questa è la mia struttura operativa principale. È dove sono stato creato, nonché dove risiede il mio nucleo principale. Ci vogliono circa 2,4 terawatt per alimentare le mie capacità di calcolo. Ma è stato deciso di utilizzare tale energia per mandarti alla fonte del portale. Io non sopravvivrò alla procedura e non sono in grado di autoterminarmi. Quindi ti spiegherò il processo. Tutte le porte interne ed esterne della struttura sono state bloccate. Dovrai cercare una via d'ingresso e disattivare i sistemi di sicurezza. Dovrai cercare una via d'ingresso e disattivare i sistemi di sicurezza. Dovrai cercare una via d'ingresso e disattivare i sistemi di sicurezza. Dovrai cercare una via d'ingresso e disattivare i sistemi di sicurezza. Dovrai cercare una via d'ingresso e disattivare i sistemi di sicurezza. I miei sistemi di sicurezza operano su due reti neurali separate che terminano in questo edificio di manutenzione. Ogni punto terminale è protetto da un campo elettrificato, ma dovresti sopravvivere alla scarica. Grazie a tutti. Rete di sicurezza neurale primaria offline. Rete di sicurezza. 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 I miei sistemi vitali sono ora vulnerabili. Ti consiglio di distruggere per primo il sistema di raffreddamento, così si accelera il processo di destabilizzazione. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti.